Romanzare storicamente una biografia di un santo è sempre un'operazione molto difficile perché si rischia di idealizzarli ancora di più di quanto i santi siano già idealizzati nei nostri chiese, nei dipinti, nei quadri che troviamo nelle nostre chiese e anche nei musei. È andata diversamente per un libro di Nicola Vegro, Antonio Segreto, edito dalle edizioni Messaggero Padova, di cui parliamo tra poco. Ciao a tutti e bentornati su Non di Solo Pane. Oggi vi presento questo libro, di nuovo, Antonio Segreto, di Nicola Vegro, La forza di un uomo, è il sottotitolo, edito per le edizioni Messaggero Padova. È un libro, appunto, un romanzo storico che va a tracciare, va a fondo sulla biografia, sulla vita di Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio, per i padovani, è un santo a volte molto amato, a volte misconosciuto. Io sono un padovano e quindi lo posso dire in prima persona. Anch'io mi sono accorto tardi la presenza di questo gigante nella mia città e nella basilica del santo, ovviamente. Per questo è anche il libro che ogni padovano dovrebbe leggere, non dovrebbe lasciarsi scappare. L'immagine che abbiamo di Antonio, spesso e volentieri nell'iconografia, diciamo, popolare e classica, è falsata rispetto a quello che lui è stato nella realtà. L'immagine che abbiamo più spesso è quella di lui che tiene in braccio il bambino Gesù con il giglio sotto il braccio e con un'aria molto beata. In realtà Antonio aveva anche una fisionomia molto diversa da come viene raffigurato e noi probabilmente abbiamo questa tendenza a calcare sull'iconografia per rendere sempre un po' più belli i santi e le sante in base ai nostri canoni estetici, ma appunto Antonio era diverso. Ed era diverso anche dal punto di vista caratteriale, dai suoi sermoni e da come si evince dal libro di Nicola Vegro. Antonio aveva un carattere molto schietto e molto diretto. Il bello, la parte interessante di questo romanzo storico è che appunto si fonda, si basa su dei dati storici. Proprio una nota dell'editore precisa questo aspetto. Molti dialoghi di Sant'Antonio inseriti nella narrazione sono ispirati ai sermones da lui scritti. Quando la citazione dei sermones letterali il testo è rientrato in corsivo. La supervisione storica è di Luciano Bertazzo, direttore del Centro Studi Antoniani, docente di storia della Chiesa nella Facoltà Teologica del Triveneto, il quale afferma durante la stesura del romanzo la ricerca storica ha evidenziato alcuni particolari inediti della vita del santo, che se avvalorati da ulteriori studi potrebbero costituire una valida scoperta. Il libro è un libro poderoso, sono 615 pagine maturate e decantate dall'autore in tanti anni della sua vita. È un bene che un libro così sia stato maturato e riflettuto per tanti anni perché probabilmente se fosse stato scritto eccessivamente troppo di getto non avremmo avuto questo risultato. La capacità di Nicola Vegro di rendere avvincente sin da subito il romanzo è davvero uno dei punti di forza di questo libro, nel senso che ti trascina la narrazione, ti trascina davvero fino alla fine. Le parti che mi sono più interessate del libro sono state quelle che hanno riguardato la città di Padova, è la mia città e mi sono sentito anche in causa. È stato molto interessante scoprire anche cose inaspettate di Antonio che non sapevo neppure io, ma d'altronde certe cose si sanno solo se si studia e se si legge. Ecco per esempio scoprire l'importanza che ha avuto Antonio nella lotta all'usura, tanto da riuscire ad apportare, a far apportare una modifica agli statuti del comune di Padova nel 1231. Ecco, chi vuole scoprire il vero volto di Antonio, l'Antonio segreto, che qui dentro non è proprio l'Antonio che è passato nella tradizione l'Antonio dei Miracoli, è un Antonio più dei sermones, diciamo, che si scaglie in maniera forte contro le ingiustizie, contro le gravità dell'epoca. Ecco, questo è un bel libro che si brucia anche proprio in poco tempo, nonostante la mole. Quindi me ne consiglio davvero la lettura e anche la meditazione, in un certo senso, perché il testo riporta, come avevamo detto all'inizio, alcune parti in corsivo che fanno riferimento ai sermoni di Antonio. Bene, vi ringrazio di essere stati sul canale, se la recensione vi è piaciuta vi chiedo di condividerla e noi ci sentiamo per un prossimo libro. Ciao! 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 Grazie a tutti.